Alluvione, da un mese si cerca Brunella Q Novax ma in malattia, docenti sospesi vincono ricorso Caro Bollette, provincia a caccia di soluzioni Rifiuti che diventano volti del cinema, SCART in mostra a Urbino Basket alla Vitrifigo Arena, le qualificazioni mondiali fra Italia e Spagna Buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV, ben ritrovati a Rossini News, il nostro telegiornale della sera che in questa edizione di venerdì 14 ottobre apriamo non smettendo di dimenticare il capitolo sospeso dell'alluvione che ha stravolto l'entroterra pesarese e senigalliese domani infatti sarà passato un mese dal tragico nubifragio che ha portato a piangere 12 vittime e ancora non si trova Brunella Q continuano le ricerche della 50 siene dispersa e vengono setacciate le aree del Misa e del Nevola da vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza forestale, protezione civile, soccorso speleologico Brunella era dispersa assieme alla figlia di 17enne Noemi che fu trovata senza vita pochi giorni dopo l'alluvione sono stati individuati nelle Marche i primi tre casi della variante del Covid-19 ribattezzata con il nome di Centaurs tre casi che sono stati rilevati tutti in provincia di Ancona una nuova variante che si inserisce in un periodo di rialzo di contagi nelle Marche 1.239 i casi rilevati oggi per una incidenza di 596 casi ogni 100.000 abitanti sono attualmente due invece i casi di ricovero in terapia intensiva nella nostra regione e dai contagi passiamo al tema dei vaccini che ci porta ad analizzare tre casi arrivati sul Tribunale di Pesaro che rischiano di fare giurisprudenza vediamo tre casi arrivati sul Tribunale di Pesaro rischiano di fare giurisprudenza il giudice del lavoro Maurizio Paganelli ha infatti accolto i ricorsi di tre docenti di scuole elementari e medie sospesi dall'insegnamento in quanto refrattari all'obbligo vaccinale anti-Covid previsto per essere in cattedra il giudice ha dato però ragione ai tre docenti e ha disposto pure che il Ministero dell'Istruzione pagasse loro le mensilità saltate tre casi particolari difesi dall'avvocato Pia Perricci dei tre docenti una infatti era a casa per infortunio uno era in malattia e un'altra aveva ottenuto un congedo per assistere un parente i tre non hanno ottemperato all'obbligo vaccinale ed è arrivata loro la sospensione dall'insegnamento nonostante non fossero rientrati in aula per motivi certificati motivi che sono stati alla base della vittoria della causa e dell'annesso risarcimento secondo il giudice infatti se non entravano in aula per le suddette indisposizioni decadeva anche l'obbligo vaccinale oggi tutti e tre gli insegnanti sono tornati in cattedra senza aver fatto il vaccino la scorsa settimana ci siamo concentrati sul grido d'allarme lanciato dal presidente della provincia di Pesaro Urbino Giuseppe Paolini in merito alle difficoltà dell'ente nel garantire i servizi alle scuole superiori in questo inverno con gli attuali rincari del caro Bollette proprio questa mattina si è tenuto un consiglio provinciale dedicato per confrontarsi su proposte e soluzioni praticabili I mesi più freddi dell'anno si stanno avvicinando il caro Bollette previsto per questo periodo sta mettendo in seria difficoltà non solo ristoratori e albergatori negozianti ma anche il sistema scolastico ed è proprio sui provvedimenti da prendere sulle scuole di secondo grado che di competenza della provincia si è discusso questa mattina in consiglio provinciale convocato dal presidente Paolini aumenti spropositati per riscaldamento e luce che ha fatto rivedere i piani per le 20 scuole superiori del territorio si è discusso di settimana corta con il sabato in dad temperature più basse, illuminazioni ridotte e sospensioni delle lezioni scolastiche pomeridiane una situazione preoccupante se l'aiuto economico da parte del governo continuerà ad essere insufficiente per tamponare un problema che sta riguardando l'intero paese preoccupati e curiosi dei provvedimenti che potrebbero essere presi dalla provincia anche alcuni sindaci del territorio come il primo cittadino di Monbaroccio Emanuele Petrucci Ho partecipato in qualità di sindaco anche se il consiglio era monotematico e rivolto ai consiglieri perché ci tenevo a capire quale fosse la condizione a livello provinciale quali interventi fossero stati fatti quali interventi saranno programmati perché sarà fondamentale intervenire in maniera drastica su un concetto che io ritengo dal punto di vista di una riforma provinciale a livello energetico con eventualmente lo sviluppo anche di un piano regolatore dedicato a quelli che sono gli efficientamenti energetici Noi a Monbaroccio abbiamo fortunatamente intrapreso un percorso quest'anno sulla scuola primaria e secondaria di primo grado con una trasformazione di efficientamento energetico e sismico che ci permetterà notevolmente di contenere i costi presso un edificio che ci costa circa 30-35 mila euro all'anno di utenze e che sarà ridotto drasticamente intorno ai 10-15 mila Per quanto riguarda l'altro edificio abbiamo il prossimo anno l'intervento complessivo con demolizione e ricostruzione sarà un nuovo istituto completamente autosufficiente ma che sarà anche una piccola comunità energetica che permetterà anche di alimentare l'illuminazione pubblica quindi una scuola che diventa non solo autonoma ma anche fornitore di energia sul mio territorio mi piacerebbe insomma la proposta che potrò fare quella di fare un percorso congiunto su tutto il territorio in modo tale da insegnare e istruire i ragazzi su quello che è il fabbisogno energetico e quello che è l'efficientamento energetico quindi fare parsimonia su tutto un percorso interno ed edifici scolastici e tirare la cinghia tutti insieme nell'ottica di un obiettivo quello di contenere i costi sperando che un domani questo paese abbia una svolta anche a livello di efficientamento energetico e di piano energetico sul nostro territorio provinciale e regionale Restiamo in tema di scuole perché entro il mese partiranno i lavori di manutenzione straordinaria della palestra della scuola primaria di Borgo Santa Maria lo ha annunciato Riccardo Pozzi, assessore al fare segnalando l'inizio del cantiere da 380 mila euro che consentirà la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico dell'edificio in via Montebianco Sul murale sesterno Pozzi riferisce di essere in contatto col consiglio di quartiere per valutare la strada migliore da percorrere non è da escludere la realizzazione di una nuova opera artistica che valorizzi l'identità del luogo E passiamo alla cronaca la squadra mobile di Pesaro ha arrestato un 36enne per spaccio di stupefacenti si tratta di un italiano residente nell'entroterra che da tempo era sott'occhio alle forze dell'ordine in quanto sospettato di una fiorente attività di spaccio con rifornimenti nella vicina Romagna Mercoledì al termine di uno dei suoi viaggi oltre il confine regionale è stato fermato e gli sono stati trovati in auto 24 grammi di cocaina nella successiva perquisizione domiciliare sono spuntati anche 80 grammi di hashish sono scattate così le manette col tribunale di Pesaro che questa mattina ha convalidato l'arresto combinando con il rito del patteggiamento 8 mesi di reclusione pena sospesa C'è stato un incendio questa notte alle 2.30 circa in strada Cerreto nelle colline pesaresi dove è andato a fuoco un capanno adibito a rimessaggio di attrezzature agricole il rogo ha interessato due trattori un motocoltivatore e diversa attrezzatura che erano all'interno dei 60 metri quadrati di struttura un incendio che i vigili del fuoco di Pesaro hanno sedato con due autobotti non ci sono state persone coinvolte ed anche oggi le telecamere di Rossini TV si sono accese al TTG Travel Experience di Rimini dove fra bandiera arancioni e borghi più belle d'Italia sta vivendo una proficua vetrina anche la proposta turistica dell'entroterra marchigiano L'entroterra è una location che può dare tante soddisfazioni abbiamo avuto tantissimi contatti c'è interesse verso quello che sono le prerogative dell'interno delle marche quindi passeggiate, natura, mountain bike possibilità di luoghi aperti quindi in questo momento che ancora il riverbero della pandemia si sente nella coscienza collettiva ci proponiamo come luoghi di interesse stiamo lavorando per formare un consorzio che è nato alla BIT e sta andando avanti con tutti i comuni della montagna dei Sibillini e presto lo proporremo anche come offerta turistica quindi siamo sul pezzo e abbiamo avuto un'ottima estate tante presenze e tanti stranieri contiamo anche dagli appuntamenti che abbiamo avuto qui di avere stagioni ancora migliori e di riuscire in quello che è il nostro attuale intento cioè la destazionalizzazione siamo arrivati ad avere un settembre che è più simile ai numeri di luglio che non di giugno e quindi è un'ottima cosa però stiamo lavorando su quei mesi un po' morti che possono essere ottobre, novembre da una parte e dall'altra marzo e aprile quindi faremo delle attività in maniera tale da indurre i turisti a venirci a trovare da noi la sostenibilità già c'è quindi abbiamo puntato su quelle che sono la natura su quelle che sono i percorsi su quelle che sono il bike quindi già siamo sostenibili abbiamo avuto un ottimo riscontro anche dai camper che è una nuova attività perché abbiamo aperto un'area sosta camper con i fondi sisma quindi il sisma che non pensa solo alla ricostruzione ma pensa anche all'economia dei territori sta andando bene anche quello quindi c'è questa attenzione e dobbiamo migliorare i nostri servizi Le Marche, la declinazione al plurale di questa regione è piena di scrigni, è piena di borghi è piena di piccoli comuni è piena di eccellenze le eccellenze come le bandiere arancioni i borghi più belli d'Italia Mercatello ha tutti e due i marchi io sono anche il coordinatore regionale per le bandiere arancioni quindi è un onore essere a questi eventi a questi eventi dove riusciamo a far vedere all'esterno cosa sono i nostri piccoli borghi i nostri piccoli scrigni molte volte si conosce la costa e si fa fatica ad arrivare nell'entroterra a volte abbiamo quei 30-40 km di curve quelle famose curve che ci contraddistinguono tra il caos e la tranquillità quindi siamo onorati di essere qui ci sono tanti progetti a livello comunale stiamo portando avanti da diverso tempo il Burgo delle Sante Mercatello sul Metauro è uno degli unici paesi sotto i 5.000 abitanti che ha due Sante che sono nate nel proprio territorio quindi ecco è un valore aggiunto anche per portare avanti il turismo religioso che è una piccola nicchia del turismo ma che crea tanto tanto movimento a livello invece di bandiere arancioni per la regione Marche stiamo portando avanti un progetto social che ci sta vedendo partecipi insieme ai borghi più belli d'Italia e questa sinergia sta permettendo a queste due realtà certificate che ricordo che sono le uniche due realtà certificate per i borghi dell'entroterra ci sta portando a un'evidenza nazionale quindi portiamo anche i piccoli borghi ma a volte paesi, penso a Frontino che è il più piccolo paesi di 340 abitanti a livello nazionale sui tavoli nazionali dove si decide il futuro del turismo da diversi anni Treia fa parte del club dei borghi più belli d'Italia attualmente in tutta Italia sono circa 330 borghi e all'interno delle Marche sono 30 con l'ultimo ingresso di Arcevia Treia è un paesino della media marca che si trova a 30 km dal mare e a 50 km dall'Appennino abbiamo un turismo che non è marittimo non è un turismo di montagna e quindi per questo dobbiamo essere attenti a chi viene nei nostri borghi nel nostro borgo a dare quei servizi e offrire quelle eccellenze che magari in altre realtà più grandi e più massive non vengono valorizzati Gradare presente al TTG Travel la fiera di Rimini forse una delle fiere più importanti per il mondo del turismo noi siamo qui a proporre ovviamente le bellezze di Gradara la Rocca i camminamenti di Ronda tutta la destinazione della riviera del San Bartolo ma soprattutto i nostri prossimi eventi che riguardano ovviamente Halloween una festa bellissima dedicata a tutti i bambini e il Natale che non ti aspetti poi siamo pronti per il 2023 sono circa 5 anni che stiamo lavorando sulla destagionalizzazione stiamo creando anche pacchetti che portano il turista soprattutto nella nostra zona che noi siamo al mare quindi per portarli anche durante l'inverno e fargli conoscere tutto l'Interland che è pieno di eventi folcloristici associazioni che insomma offrono anche particolari tipi di piatti come il tartufo che comunque sono dei prodotti tipici locali come il vino e quindi cerchiamo anche con queste proposte che facciamo di farli venire anche durante l'inverno adesso stiamo puntando molto su un tipo di tour che si chiama geocaching che è una caccia al tesoro interattiva che facciamo con il telefono sia per adulti che per bambini da fare a piedi e in bicicletta e con questo geocaching vanno in giro per la città e speriamo per le marche a scoprire un po' il territorio cercando questi indizi e nel frattempo imparando qualcosa di più sul nostro territorio una promozione regionale che al TTG è passata anche attraverso l'evento annuale di Inside Marche Live associazione che raduna 30 tour operator regionali un evento sul quale Rossini TV ha realizzato uno speciale che andrà in onda mercoledì 19 ottobre alle 21.40 ma del quale vi forniamo alcune anticipazioni attraverso le interviste realizzate da Francesca Tricca Federico Scaramucci Presidente Inside Marche Live insieme per nuove strategie insieme per il turismo per valorizzare la nostra regione Marche con un evento importante con tanti operatori del settore tante personalità una serata davvero speciale Sì siamo arrivati al terzo evento di questo tipo per promuovere la nostra regione naturalmente noi amiamo farlo insieme come appunto dicevi tra colleghi tour operator che fanno incoming tutto l'anno invitando operatori italiani operatori internazionali giornalisti perché comunque per noi è importante raccontare il nostro territorio noi cerchiamo di sforzarci di fare questo lavoro collettivo perché pensiamo che sicuramente da soli già le marche sono plurali come nome ma anche promuoversi da soli e poco efficaci invece pensiamo che sia molto più valido e soprattutto molto più costruttivo lavorare insieme per promuovere il territorio per far conoscere le nostre bellezze questa sera abbiamo anche tante presenze di amministratori locali per lavorare insieme pubblico e privato e abbiamo avuto anche l'onore di avere il direttore dell'Agenzia Regionale del Turismo con cui ci confronteremo per studiare i prossimi mercati dove promuovere il nostro territorio dove commercializzare i nostri prodotti turistici e abbiamo avuto anche l'ENIT che è naturalmente l'Agenzia Nazionale del Turismo che per noi è fondamentale perché stabilisce le strategie nazionali su cui lavorare quindi tutto il lavoro digitale per far conoscere il territorio e per uscire anche da queste difficoltà che ormai ci attanagliano da ormai quasi tre anni Stiamo vivendo una ripartenza che è fatta di qualcosa di vecchio e qualcosa di nuovo siamo in una fase di transizione la transizione cosa significa? Significa che abbiamo un mercato dei mercati maturi per cui c'è stata una grande ripresa del mercato italiano così come dei mercati tradizionali dell'Italia quindi quelli di lingua tedesca i mercati di prossimità è una ripartenza anche del mercato americano molto forte con dei collegamenti che sono addirittura superiori rispetto al 2019 e accanto a questo noi dobbiamo imparare a appunto innovare cioè conosciamo questi mercati sappiamo che cosa vogliono quali sono le esigenze ma si stanno evolvendo e dobbiamo imparare a innovare su questo quindi tra i vari temi che sono emersi come novità della domanda turistica sicuramente c'è il tema dell'outdoor e del turismo attivo bicicletta trekking esperienze anche in mare tutto quello che ha a che fare con la natura e con l'aria aperta e credo che questo sia una bella opportunità per tante destinazioni come le marche che effettivamente hanno molto da offrire da questo punto di vista e questo si accompagna ovviamente poi al tema della cultura e dell'enogastronomia però vissuta in termini esperienziali cioè sicuramente il turismo dell'esperienza dove significa essere attivi e comunque imparare qualcosa quando quando si è in vacanza ecco diventa veramente un fattore di innovazione per per le destinazioni i rifiuti trovano nuova vita sotto forma d'arte e creano sguardi sul cinema e questo il titolo della originale mostra realizzata da Scart progetto artistico del gruppo Era che è stata inaugurata ieri sera al palazzo del collegio Raffaello di Urbino dove sarà visitabile fino a novembre da Sofia Loren a Carlo Verdone da Monica Vitti a Stefano Accorsi Sguardi sul cinema è una mostra di 28 ritratti di alcune delle star più famose del cinema italiano esposte a palazzo del collegio Raffaello di Urbino fino al 20 novembre opere che a guardarle sembrano dei veri capolavori realizzati con materiale ad hoc opere che a guardarle bene sono dei veri capolavori realizzati con rifiuti e materiali riutilizzati da frammenti di cielo fanno pezzetti di tende da sole dagli accessori in metallo ai flaconi di farmaceutica sono diversi gli scarti usati dal gruppo SCART il progetto del gruppo Era che da oltre 20 anni trasforma gli scarti in opere d'arte luci, ombre ed espressioni riprodotte e curate dagli studenti delle accademie di belle arti di Firenze Bologna e Ravenna sotto la cura di Maurizio Gianni ideatore del progetto SCART abbiamo avviato questo progetto per dare una seconda vita a quella materia è estremamente interessante perché molto eserogenea colorata e quindi suggeriva agli studenti che hanno avuto l'opportunità di lavorare intorno a questo progetto delle situazioni estremamente interessanti poi ridare vita alla materia facendola diventare un'opera d'arte è sicuramente il riuso più nobile che possiamo dare a quella materia io ringrazio il gruppo Era il curatore che ha realizzato questa mostra che l'ha voluta esporre ad Urbino come già è stata esposta in altri luoghi per far il significato appunto dell'arte con il riciclato di prodotti che noi consumiamo ogni giorno e che possono riavere vita anche nell'arte quindi è un insegnamento importante nella città di Urbino che è una città legata alla cultura alla storia all'arte che chiaramente attraverso questo messaggio che vuol dare questa mostra sicuramente è un grande significato educativo perché chiaramente il riciclo è uno degli elementi fondamentali per l'economia circolare di cui tanto parliamo però bisogna metterla in pratica va ricordato anche che al di là del merito dell'azienda quello che è bello da ricordare è che tutto questo viene realizzato da dei giovani che sono fuori ancora dal mondo del lavoro e che con entusiasmo partecipano attraverso le scuole d'arte a questa iniziativa dalla scelta del materiale per terra che trovano nella raccolta presso la nostra società alla costruzione di questi prodotti artistici che sono decisamente accattivanti domani il sabato 15 ottobre nell'auditorium di Palazzo Antaldi a partire dalle ore 17 Riviera Banca presenterà il libro Pasqualon Navigatore di Sogni un volume scritto da Stefano Giampaoli che sarà introdotto da Paolo Pagnini e che vedrà Carlo Pagnini interpretare alcune delle poesie di Pasqualon l'evento è ingresso gratuito e a tutti i partecipanti verrà regalata una copia del libro una presentazione che vi mostreremo in uno speciale tv dedicato che Rossini TV trasmetterà la prossima settimana e invece domenica 16 ottobre Piazza Europa di Baia Flaminia ospiterà il progetto di legambiente Salviamo la Regina api e apicoltori delle consorzio pesarese con i loro prodotti popoleranno la piazza per sensibilizzare alle problematiche relative all'ecosistema di questi preziosi insetti indispensabili al mantenimento della biodiversità ci saranno laboratori e merende per bambini in una iniziativa di sensibilizzazione che si svilupperà sino alla giornata internazionale delle api del 20 maggio 2023 con tanti eventi volti a informare studenti e cittadini e domenica 16 ottobre a Pesaro sarà stradomenica con le consuete occasioni di shopping al mercato cittadino allestito al Carducci e al mercatino dell'antiquariato in Piazzale Matteotti una domenica in cui saranno aperti tutti i principali luoghi della cultura i musei civici la sonosfera il museo nazionale Rossini casa Rossini l'area archeologica di via dell'abbondanza e quella di Colombarone il museo della bicicletta il museo della marineria Washington Patrignani il museo diocesano le officine Benelli e casa Gentiletti e sempre all'interno della stradomenica vi segnaliamo anche questo evento quello che a una settimana dal sit-in degli ambientalisti vedrà il Parco Miralfiore riempirsi di bambini con la prima edizione di Miraviglia vediamo di cosa si tratta in questo servizio il Parco Miralfiore dopo le polemiche degli ultimi giorni che lo hanno riguardato si prepara ad ospitare un'iniziativa dal timbro sociale che coinvolgerà i bambini pesaresi domenica 16 ottobre dalle 9 alle 18 il polmone verde della città vedrà manifestarsi la prima edizione di Miraviglia il mercatino per i più piccoli dove potranno esporre e vendere i giocattoli che non usano più sarà possibile allestire le bancarelle nello spazio a fianco al bar Serra degli Agrumi che offrirà la merenda per tutti i piccoli ambulanti che parteciperanno all'evento questa iniziativa organizzata dal comune di Pesero con il liceo artistico Mengaroni e l'aiuto della protezione civile è improntata sulla diffusione di tematiche come il riuso e l'eliminazione di ogni tipo di spreco l'obiettivo di far partecipare i cittadini e le famiglie all'interno del parco Miralfiore Miraviglia mercanti in gioco abbiamo visto che durante la fiera di San Nicola ha funzionato è stato un evento che i cittadini hanno recepito bene e hanno partecipato in tanti tanti bambini hanno tanti giocattoli dentro le proprie stanze che non usano non utilizzano in questo modo possono giocare divertirsi fare baratto una cosa che ci raccomandiamo ai genitori di portare solamente i giocattoli perché deve diventare un gioco infatti proprio per questo la locandina abbiamo voluto sottolineare il fatto di chiamarla mercante in gioco è un modo per giocare e scambiarsi i giocattoli ringrazio il liceo artistico Mengaroni di Pesaro che è stato disponibile e veloce nel creare questa locandina il vincitore è Marco un ragazzo giovane che si è messo a disposizione quindi per meritocrazia oggi l'abbiamo anche invitato qua in conferenza stampa quindi complimenti grazie di nuovo alla preside Perugini e alla professoressa sempre disponibile con il comune di Pesaro il grande basket è pronto a tornare a Pesaro con un appuntamento di livello mondiale la Vitri Frigo Arena infatti ospiterà Italia-Spagna gara valida per le qualificazioni FIBA World Cup 2023 gli azzurri di Pozzecco saranno nell'astronave l'11 novembre per un evento da non perdere per il quale si possono acquistare i biglietti sul circuito Viva Ticket e dalla nazionale passiamo alla Serie A perché domani alle 20 gioca in anticipo la VL in trasferta a Casale Monferrato contro Tortona per sognare un'ambiziosa terza vittoria su altrettante giornate prima della VL domani alle 16 giocherà in trasferta invece l'Ital Service che nel campionato di Serie A di calcio 5 sarà a Torino contro la L84 sarà invece un'appassionata domenica di derby per la Vis Pesaro che alle 14.30 giocherà a Rimini una Vis piena di infortunati ma caricata dall'ultima vittoria sul Sandonato Tavarnelle vittoria che farà da propulsore anche alla Pesaro Rugby che domenica alle 15.30 giocherà la seconda partita casalinga al Toti Patrignani contro il Villa Panfili terza squadra romana incrociata su altrettanti match di campionato e vi ricordiamo che sarà una partita che potrete seguire anche in differita lunedì a partire dalle 22 e si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News ma prima di salutarci come di consueto vi ricordiamo alcuni appuntamenti a cominciare dalla nostra prima serata che ci porta all'avvicinamento al Festival Gadil verso il Festival il 75esimo Festival di Arte Drammatica aspettando il Festival rivedremo alcuni degli spettacoli dello scorso anno in questo caso stasera ci sarà la commedia Smith & Wesson e poi vi ricordo l'informazione su Rossini TV che torna puntuale domattina alle 7.20 in diretta con Buongiorno Rossini rassegna stampa del sabato che per l'occasione sarà condotta da Marco Cadedu e poi sabato in diretta domani 15 ottobre alle 13.30 torna Ui Pesaro TV un appuntamento con tutto quello che succede a Pesaro che coinvolge l'amministrazione comunale ospite del nostro Antonio Stuti sarà l'assessore all'operatività Enzo Belloni appuntamento domani alle 13.30 e poi per chi si fosse perso la prima edizione delle 19 parte questo nuovo programma di Rossini TV si chiama Spazio Z i racconti della generazione Z andremo a fare un viaggio attraverso gli istituti superiori della città di Pesaro a conoscere e a raccontare i ragazzi e gli studenti della nostra città un programma condotto da Letizia Moretti che vede questa prima puntata all'alberghiero Santa Marta ricordiamo ogni venerdì alle 19 ma poi ci sono le repliche potrete rivederle dunque già da stasera alle 23 e poi tutte le repliche che vedete in grafica dal sabato al mercoledì altro appuntamento sia sabato che domenica sabato alle 16.10 e domenica alle 9 andremo a vedere il convegno diocesano dell'Arcidiocesi di Pesaro di una cosa sola c'è bisogno dunque appuntamento domani alle 16.10 e poi in replica domenica alle ore 9 si conclude qui il nostro telegiornale Rossini News ma prima di salutarci vi ricordo che vi lasciamo con uno degli otto trailer degli altrettanti spettacoli teatrali in concorso al 75esimo Festival Gad trailer che potete guardare e poi che potete andare a votare sulla pagina Facebook Amici della Prosa dove il trailer più votato riceverà il premio Rossini TV che verrà assegnato domenica 30 ottobre in occasione della cerimonia di premiazione del Gad dunque spazio al trailer e per quello che riguarda questo telegiornale è davvero tutto vi saluto e vi ringrazio per averci seguito hai qualcosa di particolare da fare oggi? no niente di che sai com'è oggi adotto un bambino no ma anche io adotto un bambino si adottiamo un bambino non possiamo non piacere sarà un colpo di fuori ma tutto dipende da questo colloquio il nostro futuro dipende da questo colloquio uno due tre da da qualche parto nel mondo c'è un fulgoletto che avrà l'onore di averli come il figlio vieni veloce fratellone fratelli 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 scemi eh fai un'idea geniale geniale ma noi due siete due maniessi criminali ma come diavolo ti vengono in mente certe cose si capito vado ti ascolta 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 bene che succede niente tutto bene benissimo grazie